buongiorno a tutti mi chiamo andrea e sono uno dei soci operativi di roda srl una società di gavirate in provincia di varese facciamo mobili ringrazio alessandro per il bel messaggio che ci ha mandato soprattutto perché mi costringe a provare a fermarmi e a provare in poche parole a dire come sto vivendo questa circostanza che stiamo condividendo assieme una delle domande principali che mi sto facendo è realmente provare a cercare di capire che cosa voglia di restare da uomini di fronte a questa circostanza uomo marito marito che ha una moglie che è un medico che quindi è impegnata nel nel lavoro e che ha stretto contatto con questa emergenza sanitaria padre di un ragazzo di 15 anni che da tre settimane ormai a casa imprenditore quindi responsabile di domandarsi che cosa voglia dire tener conto sia dell'aspetto della salute dei propri dipendenti ma anche della salvaguardia del lavoro sia mio ma anche delle persone che condividono l'attività lavorativa con me ecco quello che volevo solo trasmettere questo grazie alla cdio in questi anni ho imparato una cosa non è tanto avere delle risposte ma porsi delle domande di fronte a quello che la realtà ti pone io mi sto proprio accorgendo che sto davanti a questa circostanza con il desiderio a di guardare quindi di non voltare lo sguardo e di non avere vergogna di tutte quelle domande che mi stanno che mi stanno venendo e questo è proprio frutto della del lavoro dell'educazione che in questi anni ho vissuto innanzitutto con la compagnia delle opere grazie e a presto e forza italia a presto a presto